la return cap chiunque abbia un minimo di spirito agonistico sa che la regata non finisce assolutamente all'arrivo dell'ultima prova del giorno anzi l'arrivo dell'ultima prova del giorno costituisce una sorta di segnale d'avviso un po approssimativo molto approssimativo della return cap che consiste nella formazione di gruppi di barche tipicamente tra le prime barche succede ma anche ci possono essere anche gruppi a metà a metà arrivo di quella prova lì oppure nella retrovia ovviamente perché la return cap funzioni bisogna che il primo aspetti con una scusa no perché poi ovviamente non può essere un un'attesa mirata nel senso che aspetti le altre barche guardandole aspettando che loro si allineino con te no tu semplicemente fai il vago che ne so fingi svuotare la barca mangi qualcosa insomma con la barca scarica in modo tale che gli altri si avvicinino a quel punto si forma una sorta di gruppo più o meno più o meno vicino non è proprio un allineamento vero e proprio no perché nessuno parla e tutti fanno finta che che nessuno interessa e quel punto si parte e si fa diciamo una regata vera nel senso che poi le regole sono certamente quelle della regata vera non si può pompare non si può chiaramente timonellare non si può fare nulla discorretto anzi si utilizza una sorta di finta cortesia aggiuntiva perché tipo agli incroci che ne so vi faccio un esempio se uno è passato davanti all'incrocio precedente e l'incrocio successivo anche se è mura sinistra anche se non passerebbe mura sinistra cioè gli mancherebbe qualche centimetro chiaramente lo fate passare perché fate finta che non che non ve ne freghi nulla no di quell'incrocio lì perché tanto state semplicemente tornando in porto però chiaro che se però lo rifà un'altra volta a quel punto lì lo fate virare in qualche modo lo dovete fare virare però a parte questo diciamo che comunque le regole sono assolutamente quelle di regata e l'arrivo è posizionato direi a mio parere ma insomma perché nessuno si è mai detto ovviamente queste regole da retrocap però l'arrivo è chiaramente al fanale l'ingresso del porto insomma perché poi dopo insomma dentro il porto non vale più insomma c'è il vento disturbato e le cose non funziona la retrocap funziona particolarmente bene in campi di regata dove si torna in bolina un esempio classico è bracciano dove magari fai le regate con vento leggero che poi diventa diventa medio e il ritorno verso il circolo è invece fatto con vento abbastanza allegro abbastanza forte e ti fai un bel bordeggio con tattica libera e assolutamente aperta a tutti quindi anche se avete vinto tre prove quel giorno lì non potete dire di aver fatto la giornata perfetta se non avete vinto anche la retrocap per cui ragazzi impegnatevi tanto e ci vediamo alla prossima ciao buona giornata